Rufa, la libera Accademia di Belle Arti di Roma, apre le porte ai ragazzi in cerca della propria strada. Nel corso della giornata sono stati presentati i corsi di laurea e docenti, studenti e personale dell'Accademia hanno risposto alle domande dei visitatori, aiutando a far chiarezza nell'indecisione in cui si naviga dopo il diploma. Porte aperte oggi per far incontrare l'Accademia con i giovani. Quanti hanno ancora le idee poco chiare sul proprio futuro e vengono a chiedere informazioni? Io penso che di persone che abbiano le idee chiare sul proprio futuro, veramente molto, molto poche. I ragazzi oggi sono presentati, sono venuti qui in Accademia per controllare, vedere, informarsi, avere delle idee un pochino più chiare rispetto a quello che normalmente si ha andando in un luogo come altri tipi di facoltà o altri tipi di strutture. Penso sia un'iniziativa abbastanza carina anche per metterli in contatto con il loro futuro mondo della scuola, volendo anche del lavoro. Questa che è l'aula di scenografia, il docente di riferimento è il professore Alessandro Vergoz, uno scenografo, ha lavorato lui moltissimo con la RAI, anche in altri ambiti, in ambito teatrale. Il maestro che ha impostato invece questo tipo di corso è stato invece il papà di Alessandro Vergoz, Fabio Vergoz. È stato uno scenografo molto importante sia all'interno della Rufa ma soprattutto anche all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Via Ripetta. I lavori sono questi che vedete, modellini di opere teatrali, si trovano anche costumi. Un altro docente molto importante, sempre qui all'interno del corso di scenografia, è Vincenzo Caruso, anche lui scenografo. Poi non so, c'è l'architetto di Sant'Antonio, capo scenografo della RAI, la scenografa Maria Chiara Castelli, anche lei, insomma, normalmente lei si occupa delle scenografie di Sanremo, tanto perché, insomma, siamo ad un livello qualitativo molto alto, Maria Pia Dorazzi per storia del costume, insomma, sono tutti quanti docenti molto molto preparati. Questo qui è l'aula di graphic design e il titolare di riferimento di questo corso è Romeo Guaricci, insomma, un designer molto importante in Italia. Non è solamente un... lui è un graphic design ma anche un designer anche di oggetti, insomma, ha progettato diverse cose anche per case molto importanti. e devo dire, i ragazzi hanno... si trovano molto bene, soprattutto anche perché già dai primi anni, appena entrano all'interno del corso, già cominciano a lavorare, a trovare diversi impieghi all'interno del mondo del lavoro e devo dire che appena usciti sicuramente nessuno si trova senza fare niente di questo corso, quindi è un corso che traina molto bene l'accademia, insomma. L'open day è momento di scambio, tante le attività proposte e i workshop. Aule aperte per mostrare i lavori e le opere realizzati dagli studenti già iscritti. Lei in quale corso insegna? Al corso di scenografia. Ce l'illustra brevemente? Al corso di scenografia insegna i ragazzi a ambientare uno spettacolo in un determinato luogo, che può essere il teatro, può essere un teatro di posa se parliamo di cinema, può essere una sfilata di moda o quant'altro. Sono venuti molti ragazzi a chiedere informazioni? Sono venuti abbastanza studenti, possibili studenti. Siete ragazzi all'ultimo anno delle superiori, avete le idee chiare sul vostro futuro o state ancora scegliendo? Cosa fare? Beh, si spera che uscendo dalle superiori si riesce ad andare all'università e poi, in caso mio, diventare architetto. Voi invece a quali corsi siete maggiormente interessati? Non so, io è uguale a lui, comunque, o architettura o design, un lavoro del genere. No, io non ho le idee tanto chiare. Decisa tra cinema, scenografia e interior design. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti